buongiorno siamo alla grotta di san leone caro andiamo a vedere dove la grotta in questa grotta si è rifugiato il vescovo di catania leone e il romitorio dovrebbe essere qua sotto ecco qua questa è l'entrata questo è carlo ciao carlo romitorio eccolo qua c'è la croce carlo vedi ecco qua vediamo l'entrata del romitorio tu non vorrai entrare penso carlo apri magari vedi com'è dentro ecco qua vediamo qua dentro un po umido diciamo qua che c'è scritto allora qua c'è una bella stessa intanto chiudiamo ok chiudi bene ok basta che c'è tu devi dire bene che non ho l'occhiato ecco questo quest'antro allora san vescovo il santo vescovo leone peccato però penitenze nel orazioni trasse i suoi giorni suoi giorni quivi sul nudo suolo suolo franto dalle protratte reglie dava bre le sue che non si capisce bene catania va bene poi vescovo di catania però grandetto che si entra da qua carlo ma alla sopra guarda com'è questa cosa è stata è stata messa nell'anno 1893 però il priore ed abate arciprete sacro monumento volle fosse restaurato nel 1894 andiamo ecco qua e poi e poi fu edificata l'abbazia e successiva un collega carlo che viene da sotto ecco dove andremo noi no noi saliamo vi ho detto che saliamo da qua guarda che bello questa scalinata guarda eccolo qua ma penso di sì certo ma ancora ci vuole ecco l'abbazia da dietro la scritta grotta san leone al contrario qua c'è pericolo di accesso ecco l'abbazia da san leone tutto alla prossima alla prossima